è ora di finirla delle mezze calzette parliamo di cose serie i rifugi io ho iniziato a 14 anni si dondolava da una montagna all'altra vedete allora incominciamo quanti rifugi ci sono in giulia 2008 15 agosto rifugio staulanza non sapete neanche come che cos'è ecco sono stato lì scipiana di calore al falzargo dolomiti no poi auronzo ovviamente poi cugi più volte anche qua al pramosio cugi terza volta ecco e poi tutti questi qua e poi questi lungo la tappa del cammino celeste 8 novembre 2020 ecco qua casera mela vi invito venite se avete coraggio se avete coraggio venite a casera mela sarò aspettarvi io e mauro